buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar live di rete informatica lavoro il primo portale del lavoro italiano dedicato agli informatici sono maria luce villa brand manager di rete informatica lavoro e di performa group benvenuti facciamo sempre le solite prove tecniche se mi vedete sentite correttamente chiedo in chat a qualcuno grazie perfetto ciao michele grazie mille benvenuti a tutti come sapete ogni giovedì organizziamo questi webinar tecnici gratuiti su linguaggi di programmazione cyber security sviluppo argomenti digital e tematiche che ci suggerite voi tutto questo grazie anche la collaborazione di docenti consulenti e alla collaborazione anche di importanti aziende del settore tech come questa sera questa sera infatti abbiamo il piacere di avere con noi ospiti entity data italia che avremo sia oggi e già in programma altri tre appuntamenti entity data italia è parte della multinazionale giapponese entity data uno dei principali player a livello mondiale nell'ambito della consulenza e dei servizi più vi do solo qualche numero poi vedremo con i nostri ospiti sesto posto come living company nel settore t dati garner oltre 5.000 professionisti e presenti in italia in 10 città ve li elenco milano roma torino genova treviso pisa napoli cosenta salerno e bari allora questa sera abbiamo il piacere di avere con noi dario pinzi e giovanni greco in greco entrambi digital engineer and competence lead per l'area mobile and emerging device buonasera a tutti giovanni dario eccoci benvenuti da rete informatica lavoro benvenuti allora come vediamo comunque dalla grafica il titolo del webinar è chiaro ci potete dire brevemente cosa vedremo questa sera insieme a voi ok vuoi condividerci una slide ok perfetto allora colgo la mia ok non so se la vedete sì ok perfetto vado un attimo in condivisione in allora brevemente diciamo stasera vedremo insieme due tematiche principali che sono il che riguardano un po anche il mondo di emerging device che sono android auto e carplay in particolare faremo quindi un breve scorso su chi siamo e giovanni vi ci presenteremo un attimo andremo a vedere quelli che sono per noi emerging device cosa intendiamo effettivamente con emerging devices cercheremo un attimo di orientarci in questo mondo un po vasto e rispetto a questo mondo andremo a fare degli approfondimenti su due categorie principali che sono gli smart assistant dove faremo un overview mostreremo come funzionano poi smart assistant nel dettaglio alexa e google home e faremo un overview del del mondo delle smart tv facendo vedere un po qual è stata anche lì la nostra esperienza e come quali sono anche le skill che servono per poter sviluppare in questo ambito e nella seconda parte della della presentazione andremo diciamo un po più nel dettaglio nell'ambito dell'automotive mostrando un po come si sviluppano le app per android auto e carplay che mondo c'è intorno all'automotive e tutto quello diciamo che serve un po come conoscenza di base per poter iniziare a sviluppare le app per diciamo per l'automotive quindi le app per carplay e android auto in particolare faremo poi un approfondimento su android auto e giovanni ci mostrerà anche una sessione diciamo di live coding ci sarà una piccola demo che ha preparato per far vedere un po come la struttura e quanto si differenzia o meno da poi le app fatte per android ok perfetto grazie dario come di consueto vi chiediamo di scrivere le domande solo nella sezione domande quindi risponderemo io risponderò in chat per eventuali domande a livello di livello organizzativo se avete qualche curiosità sui nostri webinar io lascio la parola a voi buon webinar a tutti ci vediamo più tardi grazie grazie a te allora e andiamo rapidamente avanti ci presentiamo chi siamo io giovanni lavoriamo in nell'area mobile emerging devices io diciamo come lavoro da più di dieci anni undici anni nel nell'ambito mobile ho iniziato la mia carriera in ambito mobile sviluppando su io s poi ad oggi le tecnologie ci hanno spinto ad andare sul sulla conoscenza di flatter sono appassionato di innovazione quindi qualsiasi tematica come ad esempio una in the box ma tante altre tematiche ruotano intorno allo sviluppo ma che stanno facendo sempre più parte poi dello sviluppo sono tematiche cui tengo e tengo anche insomma a voler capire comprendere e portare all'interno dell'aria lascio giusto la parola a giovanni per presentarsi sì io lavoro in attitidata dal 2017 lavoro sul mondo mobile android in particolare dal dal 2010 e negli ultimi due anni mi sono concentrato di più sulla sulla tecnologia flatter dove ho iniziato a sviluppare le prime app adesso porta avanti diciamo delle soluzioni appunto in flatter ok grazie giovanni e come come dicevo prima facciamo parte dell'area mobile emerging devices all'interno dell'area customer experience è un'area che nasce come background mobile quindi siamo partiti più di 10 anni fa con lo sviluppo di app mobile quindi abbiamo un po passato tutta quella che è la storia diciamo del delle app quello che continuiamo a fare diciamo nel nella nostra nel nostro dei bei dei e sicuramente monitorare i trend sperimentarli e portare sicuramente avanti soluzioni per sviluppi futuri o tecnologie in cui vediamo un futuro ma partiamo diciamo dal cosa sono gli emerging devices per emerging devices noi intendiamo tutti quei emerging tutti i device che ad oggi fanno parte integrante della nostra vita un esempio sono gli smartwatch tutto quello che è wearable le smart tv gli smartphone arvr iot e quant'altro tutti questi device che sono connessi e in qualche modo semplificano anche la nostra vita fanno parte di questa categoria li chiamiamo emerging perché fondamentalmente sono sempre in continua evoluzione che un'altra caratteristica principale è anche il modo di interagirci un esempio è un esempio è le modalità interazioni possono essere differenti possiamo interagirci tramite eccoci vediamo se si riconnette subito Dario ok pazienza mi riesci un attimo a sentire se si è visto ok capita eccoci vediamo se Dimi se posso fare qualcosa se ha problemi intanto io vi ricordo una cosa per chi si è iscritto e per chi ci ha dato il consenso invieremo comunque i vostri contatti ai team HR di Entity Data Italia quindi se avete deciso di darci il consenso sarà un'ottima opportunità per chi comunque vuole lavorare in Entity Data Italia e magari avere un colloquio con loro sulla base delle ricerche attive in questo momento intanto ottimo Enrico no spero di no ok eccoci Dario non è che stai così ah tu sei nato avanti ok non si vedeva ottimo dove siamo arrivati giusto per alla prima slide no beh dai provo a fare share ancora nella presentazione e ti diciamo esattamente dove siamo rimasti allora allora eccoci ottimo e la vedete? sì no eravamo prima ok esempi di device emerging device ecco ok guarda provo a tenerla così ma giusto per ok va bene se non hai in idea fastidio ok grazie riparto da questa allora riparto da capo va bene grazie e cosa dicevo cosa sono gli emerging devices gli emerging devices per noi sono tutti quegli quei device che di fatto fanno parte dell'integrante della nostra vita qui vediamo un po' rappresentati tutte le tipologie ad oggi conosciute ma domani ce ne saranno sicuramente altre quindi un po' i wearable le smart tv tablet automotive smart watches queste questa categoria questi emerging devices ovviamente sono sempre in continua evoluzione e da un punto di vista di anche interazione cambiano sempre nel senso che come vedremo anche la possibilità di interagirci cambia il modo anche in cui ci interagiamo come vedremo negli smart assistant tra poco sicuramente una delle categorie che abbiamo che abbiamo portato stasera è quella proprio degli smart assistant questa frase per esempio rappresenta un po' quello che sono gli smart assistant in particolare gli smart assistant permettono attraverso l'utilizzo della voce di interagire con prodotti e servizi questo racchiude un po' come dire la sintesi dei smart assistant perché abbiamo scelto Alexa e Google Home siamo comunque un'area di customer experience e la customer experience che abbiamo visto e comunque che fa parte ormai delle nostre vite è radicalmente cambiata grazie ad Amazon e Google chiediamo agli assistenti vocali di qualsiasi cosa diciamo quindi ci interagiamo tutti i giorni e possiamo con loro diciamo semplicemente usando la voce in tono naturale delle diciamo dei piccoli trucchi nelle frasi diciamo delle parole chiave nelle frasi ci interagiamo e possiamo semplificare sicuramente la nostra vita di tutti i giorni e andando a vedere un po' quali sono le differenze tra Alexa e Google entrambi offrono servizi di musica news to-do list allarmi permettono diciamo di controllare smart device e sicuramente tutta una parte di automazione è ben supportata sono molto simili come ecosistema vedremo anche dopo dal punto di vista proprio di funzionamento e come sono stati poi realizzati effettivamente saranno anche simili da quel punto di vista e diciamo che il Alexa raggiunge un maggior tipo di un maggior numero diciamo di che numero range quindi per tipologia di dispositivo rispetto a Google quale dei due migliori difficile da dirsi dipende un po' dalla scelta personale Alexa è raccomandato per la smart home e supporta un numero un gran numero di device Amazon e Google Home ovviamente è presente su tutti i dispositivi Android quindi hanno entrambi una un'ottima validità e andiamo a vedere nel dettaglio però come un po' come funziona no? e capiamo anche quali sono fondamentalmente le le skill che servono per poter realizzare una una skill di Alexa un action di Google Home o più comunemente poi le possiamo chiamare anche app fondamentalmente Alexa è un assistente virtuale che come vedete vive nel cloud fondamentalmente è composto da due anime un'anima è quella dell'Alexa voice server service che permette di tradurre tutto quello che è lo streaming vocale nel cloud e ovviamente supporta tutto quello che è riconoscimento della voce riconoscimento del linguaggio naturale comprensione linguaggio naturale ed è qualcosa che è sempre in apprendimento quindi evolve sempre riesce comunque a comprendere sempre più frasi parole e modi di dire e dall'altra parte c'è l'Alexa skill kit che viene messo a disposizione da Alexa che è tutta la parte di framework che permette la creazione proprio di skill vediamo un attimo come funzionano le skill qual è il flusso che ci permette poi da una da un comando vocale di avere delle informazioni o sentire una musica ordinare qualcosa quindi in generale è quello che ci permette proprio di fruire dei servizi tramite la voce e rapidamente quando l'utente chiede manda un comando a Alexa Alexa praticamente invia lo streaming audio al cloud di Alexa quindi ai servizi in cloud questi applicano tutto quello che è riconoscimento vocale machine learning e quant'altro per poter poi inviare la richiesta alla skill la skill quindi che farà praticamente la skill funziona come un servizio in cloud dove per un'informazione ha ricevuto audio visuale a seconda poi del tipo di dispositivo al cliente quindi questo è un po' quello che è il flusso e dove interagisce poi la skill quindi quello che si fa per sviluppare qualcosa su Alexa è proprio la realizzazione di una skill che è fondamentalmente per chi viene da un ambito app le skill sono come le app per Alexa quindi quali sono poi le skill dello sviluppatore chiamo quindi le capacità che servono per poterle sviluppare sicuramente l'Alexa skill kit è qualcosa che bisogna apprendere non è qualcosa insomma che è comune da altre tecnologie però si basa poi e sfrutta l'Amazon web service che richiedono insomma le conoscenze magari di javascript si può utilizzare node o python quindi queste sono un po' le conoscenze per chi vuole affrontare diciamo lo sviluppo o iniziare lo sviluppo di una skill su Amazon vado avanti dall'altra parte c'è Google che come sappiamo e Google è la parola insomma un po' che la controparte di Alexa e sappiamo che è un assistente vocale che è su un milione di device quindi tutto quello che sono telefoni ma anche smart speaker auto e tv e anche Google ha una modalità operativa molto simile quindi si basa sulle action almeno fino a giugno del 2023 perché ha diciamo in piano delle evoluzioni ma diciamo vediamo un po' che cos'è un action un action è un po' come la skill di Alexa sono le app disponibili per lo smart speaker e attraverso queste diciamo si possono realizzare delle app che vanno poi a arricchire quello che è l'assistente di Google quali sono le skill per poter realizzare l'action sicuramente bisogna un po' come dire andare a studiarsi quello che è la documentazione ma andare a come dire a diventare pratici sulla console di Google che si chiama l'action console e avere anche delle capacità diciamo di sviluppo su Node quello che vi riportiamo qui è un esempio di una POC che stiamo realizzando quindi ancora non è proprio ufficiale interno di entity ma è una prima POC dove stiamo sperimentando proprio la parte di Alexa la stessa cosa è stata fatta per Google vi riporto insomma qui un esempio questa è una POC dove di fatto andiamo tramite il supporto vocale a prenotare un posto all'interno della sede quindi possiamo dire ad Alexa secondo alcuni ovviamente pattern dove vogliamo prenotare in quale giorno in quale piano e così anche cancellare una protazione queste sono un po' le funzionalità che abbiamo inserito e abbiamo sviluppato questa POC sia per sperimentare sia perché la riteniamo comunque utile e è molto più semplice per la prenotazione del diciamo della dei posti diciamo in sede e qual è stata la nostra esperienza tra Google e Alexa allora per quello rispetto alle POC che abbiamo fatto Google sicuramente ha una buona esperienza dal punto di vista di sviluppo ed è già pronto per testarlo sui devices sicuramente come contro ha meno skill di Alexa la documentazione non è proprio chiarissima per la parte diciamo di webbook che sarebbe diciamo la parte di collegamento con risorse esterne diciamo non c'è non viene fornito diciamo un supporto da un punto una disponibilità direttamente integrata nella console mentre per Alexa ovviamente i pro sono il numero di skill che sono presenti quindi sono un maggior numero di skill l'esperienza utente è stata veramente buona la documentazione è molto chiara e ovviamente qui viene messo a disposizione anche l'hosting di AWS per la parte diciamo di servizi quindi è tutto molto collegato e semplice da usare e c'è una maggiore varietà di device da testare incontro ad esempio sui smartphone è necessario poi per testare installare l'app di Amazon Alexa passiamo rapidamente all'altro l'altro diciamo l'altro filone principale che sono gli smart tv la parte di smart tv andremo a vedere principalmente un po' che cosa sono e andremo a vedere un dettaglio anche di che cosa abbiamo realizzato allora gli smart tv fondamentalmente è una televisione integrata con internet e con feature web 2.0 e sappiamo bene che ci permette poi tutti i giorni di vedere film musica navigare su internet vedere foto scaricare delle app quindi ci sono app di tutti i tipi ci sono proprio degli store per scaricarle e di fatto queste smart tv hanno a bordo un sistema operativo che è precaricato all'interno della televisione e ci permettono di accedere a una infinita varietà di contenuti digitali andiamo a vedere una rapida overview di qual è lo share il market share dei sistemi operativi fondamentalmente Tizen e WebOS sono diciamo i più utilizzati le smart tv più utilizzate questa diciamo questa statistica è del 2020 rispetto diciamo a quella statistica Android tv ha avuto una grande crescita Samsung e LG hanno mantenuto la crescita Apple tv è rimasta abbastanza stabile rispetto a queste siamo andati a quindi analizzare le prime due i primi due sistemi operativi quindi Tizen e WebOS che sono i sistemi operativi che sono quelli un po' più diffusi inoltre abbiamo voluto fare un approfondimento su tematiche affine anche al mondo mobile che conosciamo bene quindi abbiamo fatto un approfondimento su Apple e su Android tv per quanto riguarda Tizen e WebOS in generale per questo tipo di priorizzare delle applicazioni su per Tizen e WebOS bastano delle conoscenze Web fondamentalmente si può utilizzare come vediamo dalla slide l'HTML5 e il CSS3 e JavaScript in più Tizen mette a disposizione anche la possibilità di realizzare delle app in .NET con C Sharp come tool di sviluppo si può utilizzare per Tizen il Tizen Studio che viene messo a disposizione piuttosto che delle estensioni di Visual Studio per Apple l'altra esperienza che abbiamo fatto quindi è su Apple TV e Android TV anche qui per chi diciamo è uno sviluppatore pieno da uno sviluppo mobile Swift o Kotlin lo sviluppo di queste applicazioni è abbastanza naturale quindi se si utilizzano semplicemente gli stessi linguaggi e gli stessi tool dello sviluppo nativo quindi per iOS Swift e col supporto di TV iKit e Xcode come ambienti di sviluppo invece per la parte Android Kotlin e Android Studio questo è un esempio di una POC che abbiamo fatto interna dove in realtà per i totem per i schermi che abbiamo in azienda volevamo provare a fare un player che mandasse in rotazione i video di entity data quindi abbiamo realizzato una POC sui vari sistemi operativi questa è quella di Apple TV ma l'abbiamo fatta sia per Apple TV che per Android TV Tizen e WebOS da questa esperienza abbiamo imparato che la parte Tizen e WebOS è molto facile diciamo come realizzazione basata su HTML5 e supporta diciamo la compatibilità su più device come contro abbiamo notato che comunque l'idea di questa disposizione è molto lento gli emulatori non sono proprio stabili e i framework alcune volte hanno dei diciamo delle defiance come un po' per la documentazione proprio sfrutturata bene invece per Apple TV e Android TV è stato molto più facile diciamo realizzarle e sicuramente il pro più grande è il riuso della conoscenza nativa quindi è come realizzare un po' un'estensione di quello che è il mondo per chi lavora ad esempio su iOS basta integrare il TV i kit ti mette a disposizione una serie di componenti per la tv tutto il processo ovviamente di pubblicazione è molto simile a quello che conosciamo già per le app mobile come contro qualche contro sicuramente la documentazione non è proprio chiara però insomma ci stanno lavorando ed è sempre in continua produzione concludo passando la parola a Giovanni per la seconda parte della presentazione dove ci mostrerà la parte di CarPlay Android Auto e la demo Giovanni non so se vuoi prendere tu la condivisione dello schermo si condivido io grazie Dario a voi grazie vedete si ok allora come diceva Dario io vi parlerò un po' di ulteriori margin devices che sono quelli installati in pratica sulle automobili che andiamo a comprare al giorno d'oggi in particolare vi parlerò delle tecnologie CarPlay e Android Auto queste praticamente permettono a guidatori di un'automobile di estendere le funzionalità del proprio smartphone delle app in esecuzione sul proprio smartphone anche sui sui device installati sulle automobili appunto sta diventando praticamente un must have una killer feature diciamo sulle automobili in medita ai giorni nostri e diciamo da da uno studio si si vince il 79% delle persone che si che deve acquistare un'auto prende fortemente in considerazione il fatto che ci sia o meno questa funzionalità a bordo delle auto questi sistemi quindi CarPlay e Android Auto quello che fanno è mettere a disposizione di chi sta guidando l'automobile diciamo un'esperienza utente cioè mettere a disposizione quest'auto con un'esperienza utente che minimizzi intanto le distrazioni appunto con un design pensato apposta per chi sta guidando non per i passeggeri questa timeline ci mostra un po' diciamo la storia di queste due tecnologie quindi nel 2014 e 2015 rispettivamente da Apple e da Google sono nate queste due nuove tecnologie negli anni c'è stata diciamo una continua evoluzione seppur non velocissima diciamo nel 2016 Apple dà la possibilità di collegare wireless quindi non con il cavetto l'iPhone all'automobile nel 2017 abbiamo invece la nascita di Android Automotive di cui parleremo più avanti nel 2019 si inizia ad avere la possibilità di realizzare delle app customizzate però diciamo solo da parte dei dei manufacturer delle auto stesse mentre dal 2020 in poi con anche l'avvento di nuove categorie di app consentite quindi nel 2020 parking charging e navigation si dà diciamo possibilità ad app di terze parti di poter implementare la propria app e pubblicarla sullo store e quindi farla partire sul proprio dispositivo Android Auto entrambe le tecnologie sono ancora cioè tuttora in evoluzione quindi nel 2022 quindi quest'anno diciamo ci sarà cioè Android Auto renderà possibile lo split screen mode e anche la possibilità di realizzare app per il video streaming mentre per quanto riguarda Apple diciamo si consentirà alle app CarPlay anche di interagire più a basso livello con con l'automobile quindi controllare anche diciamo delle feature della macchina dell'automobile ok adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio di cosa si tratta appunto allora Apple CarPlay e Android Auto sono delle app sostanzialmente che sono in esecuzione sugli smartphone e come dicevamo permettono appunto alle app installate sullo smartphone di estendere le proprie funzionalità anche sul device installato sull'automobile una precisazione da fare è che c'è una differenza importante tra Android Auto e Android Automotive di cui parlavamo prima Android Automotive è un sistema operativo vero e proprio che viene installato proprio sul device a bordo dell'automobile essendo un sistema operativo a sé stante intanto non ha bisogno che ci sia uno smartphone collegato e inoltre essendo installato a bordo dell'automobile può interagire con tutti con tutte le periferiche dell'auto quindi può interagire ad esempio con l'aria condizionata piuttosto che con la radio ma anche con i fari piuttosto che con la centralina per monitorare i dati dell'automobile batterie eccetera questo schema diciamo descrive un po' per grandi linee da cosa sono formati Android Auto CarPlay contro Android Automotive e diciamo dove si vanno a piazzare le app che noi effettivamente implementiamo le app che noi possiamo sviluppare sono appunto le third party apps che quindi sono diciamo una piccola parte di tutto questo mondo per quanto riguarda la parte destra diciamo è uno schema blocco appunto di tutto il mondo Android Automotive per la parte in blu apps diciamo queste sono le app che interagiscono diciamo pesantemente con l'automobile quindi lo sviluppo di queste ma diciamo anche di questa parte qui è demandata appunto ai manufacturer delle automobili diciamo c'è possibilità anche qui di installare third party apps ma diciamo i criteri sono molto molto stringenti allora come abbiamo detto Android Auto e CarPlay il primo obiettivo che si pongono è quello della sicurezza di evitare al massimo le distrazioni per il guidatore per diciamo raggiungere questo obiettivo diciamo lo sviluppo su queste piattaforme su questi tipi di app è molto stringente infatti ci sono molte regole molti diciamo paletti da rispettare per fare in modo che appunto le app siano sicure e non forniscano troppe distrazioni per gli utenti il sistema operativo Android iOS dello smartphone si diciamo prenderà cura di gestire l'input dell'utente di ridimensionare le schermate automaticamente in base al device su cui verranno installate gestire le transizioni sulle schermate fornire una UI ottimizzata sempre nei riguardi di chi sta conducendo l'automobile gestire light and dark mode in base alle condizioni di luminosità presenti in quel momento e poi applicare delle restrizioni alla user experience sulla base delle condizioni esterne ad esempio se la macchina è in movimento quindi se il guidatore sta effettivamente guidando sta in movimento quindi deve restare attenzione alla guida non sarà mai possibile ad esempio effettuare una ricerca quindi una tastiera non verrà mai mostrata da Android Auto dall'altro lato diciamo noi sviluppatori di app dobbiamo diciamo sviluppare le app appunto tenendo sicuramente conto di queste limitazioni quello che bisogna fare è andare a definire diciamo i flussi e l'applicazione secondo cioè mettendo in sequenza una serie di template che vedremo dopo in un determinato ordine andare a definire i metadati che vengono mostrati che verranno mostrati da Android Auto o da CarPlay e brandizzare l'applicazione per quanto possibile sempre in base alle limitazioni della piattaforma quindi sarà possibile rastronizzare le icone le immagini piuttosto che i colori per quanto riguarda le tipologie di applicazioni esistono diverse categorie la prima è quella di message come dice il nome stesso permette di creare delle app di messaggistica quindi sarà possibile mostrare sullo schermo eventuali messaggi che arrivano in real time e dare la possibilità all'utente di rispondere utilizzando i comandi vocali solo su CarPlay c'è la possibilità di realizzare delle app food ordering quindi per effettuare degli ordini o ripetere degli ordini già effettuati in precedenza per entrambe le piattaforme invece sono presenti le app navigation dice la parola stessa quindi per dare indicazioni turn by turn quindi passo passo sul percorso da seguire per raggiungere una determinata destinazione media audio per riprodurre contenuti audio possono essere quali in quel tipo quindi musica piuttosto che audiolibri radio eccetera e infine quelle che adesso su Android sono definite come poi quindi point of interest app disponibili anche su iOS permettono di mostrare una serie di punti di interesse appunto per l'utente possono essere ad esempio colonnine ricariche per le macchine elettriche piuttosto che parcheggi liberi dove poter parcheggiare e quindi mostrarli all'utente e fornire informazioni a riguardo altre restrizioni applicate a questo a queste tipi di app sono sicuramente legati anche ai temi da poter seguire all'utilizzo di template di cui parlavamo anche prima quindi qui a destra vediamo diciamo uno schema colori utilizzabile sulle app anche il numero di colori utilizzabile è comunque limitato diciamo già seguendo il tutorial base che si trova sulla documentazione google diciamo si va a creare un tema come vedremo dopo con determinati colori da poter utilizzare nell'app un altro principio fondamentale è quello come dicevamo di utilizzare dei template predefiniti in questo caso ne vediamo uno per android e per uno per ios a qui a sinistra abbiamo entrambi ci sono dei template che mostrano la mappa con una lista di punti di interesse a sinistra mentre a destra abbiamo per ios un navigation template quindi diciamo un'indicazione in turn by turn come dicevamo per raggiungere una destinazione inoltre il numero di schermate che possono essere mostrate in sequenza da un'app anche questo è limitato in modo particolare è limitato a 5 step quindi come in questo esempio che vediamo sotto quindi in primo step abbiamo la mappa con la lista dei punti di interesse tappando su un punto di interesse si accede al dettaglio possiamo accedere alla prenotazione non la ricarica quindi in questo caso la ricarica un messaggio di richiesta conferma e poi uno step finale quindi diciamo il flusso può avere una massima profondità di 5 step sempre utilizzando i template messi a disposizione delle piattaforme per quanto riguarda invece le quick food ordering apps di apple è possibile realizzare dei flussi solo di due template ok adesso passiamo un po' alla parte più pratica quindi andremo a vedere un po' il setup di un'app di demo che ho realizzato per questo webinar quindi andremo a vedere in particolare cosa è necessario fare per aggiungere un'estensione android auto ad un'app android quindi il primo step sicuramente è quello di aggiungere le dipendenze il file build.gradle dell'app dichiarare il service nel manifest e anche i metadati che saranno necessari alla parte android auto dopodiché andare a implementare le service session sempre per android auto e infine le schermate quindi questo qui è il build.gradle di un'app android semplicissima vuota praticamente queste qui sono le le dipendenze necessarie state vedendo il codice corretto? si puoi fare un po' zoom? ok grazie ok grazie niente allora queste qui sono le dipendenze da aggiungere sul gradle sicuramente dopo lanciare un sync per fare in modo che si scarichi queste dipendenze ogni volta si resetta ok dopodiché si va a dichiarare il service ovviamente lo ritroviamo nei sorgenti dell'app qui dove andiamo a dichiarare il nome dell'app che vedremo sul dispositivo android auto e l'icona andiamo a definire la categoria per questo service quindi stiamo dichiarando un'app android auto di categoria poi quindi per mostrare dei punti di interesse e relative informazioni piuttosto che mostrarli su mappa i metadata che andiamo a definire sono il tema che vediamo qui quindi come dicevamo prima la possibilità di definire dei colori da utilizzare nell'app sia in configurazione light che in configurazione dark andiamo a definire il min car api level quindi qui abbiamo impostato uno per avere massima compatibilità con tutti i device android auto e infine questo quest'ultimo metadata con questo automotive app desk diciamo è una chicca nel senso che sulla documentazione android che diciamo non è chiarissimo ancora su questa parte android auto questa parte qui non è presente e quindi se proverete a realizzare un'app e non mettete questa parte qui non ve la troverete mai sul dispositivo android auto quindi diciamo importante specificare questa parte qui altrimenti non funzionerà mai ok poi dicevamo il service il session il service sarà una classe che stenderà carapp service che deve implementare fondamentalmente questi due metodi che sono create-tost-validator e on-create-session create-tost-validator in pratica ritorna diciamo un true and false sulla base del dispositivo su cui si sta runnando l'app quindi come vediamo qui se è un'applicazione debuggabile quindi se siamo in debug ritorniamo questo allo allo allost-validator quindi facciamo in modo di poter runnarla su tutti i tipi di dispositivi altrimenti andiamo a fare possiamo andare a definire una lista di dispositivi abilitati oppure specificarli uno per uno qui io ho qui aggiunto questo per fare in modo che possa essere runnata anche sul simulatore che adesso vedremo quindi questo page name e il digest corrispondono a quelli dell'emulatore ok poi sul metodo non create session invece andiamo a ritornare semplicemente la session e finalmente la prima schermata dell'app effettiva vediamo anche come effettuare il setup diciamo del test environment quindi come abbiamo detto Android Auto è un'app che è in esecuzione sul device quindi sul dispositivo Android bisognerà andare semplicemente sul play store e installare l'app Android Auto se non è già attivata attivare la developer mode che si attiva diciamo scrollando in basso sulla voce version si effettuano diversi taps in quando non compare un pop up di sistema che avvisa del fatto che stai attivando la developer mode a quel punto sui tre puntini in alto a destra sarà possibile avviare o arrestare il server di Android Auto su Android Studio sarà necessario switchare al canary channel installare dagli sdk tools l'Android Auto desktop head unit emulator che è appunto l'emulatore di Android Auto e finalmente avviarlo diciamo verrà installato all'interno della folder dell'SDK sarà possibile avviarlo con questo comando adesso lo vediamo qui ecco ok questo qui è l'emulatore Android Auto quindi come se fosse il dispositivo reale dell'automobile che parta automaticamente con l'app Google Maps aperta questa qui è la nostra app di demo che abbiamo realizzato ok qui andiamo a vedere il primo template questo è come vediamo qui un place list map template ovviamente i dati sono tutti moccati in app per fare le cose in velocità quindi abbiamo tre righe in sostanza questi qui sono i template di cui parlavo prima quindi sarà possibile esclusivamente lavorare con questi tipi di builder e di oggetti quindi andiamo a definire tre righe quindi mappa cerca impostazioni che sono queste tre in sostanza più come il titolo che settiamo sopra eccolo qui e poi l'interazione con ognuno cioè abbiamo gestiamo l'interazione sull'onclick list delle singole row quindi nel primo caso andiamo a aprire la map screen anche questa è una place list map template la vediamo qui abbiamo messo tre poi sempre qui di moccati anche qui andiamo a gestire l'interazione ah vabbè per ogni poi andiamo a definire la sua row andiamo a impostare latitudine e longitudine dei poi che vengono mostrati su mappa andiamo a settare l'icona per ognuno e ovviamente il titolo definito con uno span in questo caso infatti è possibile per ognuno di questi andare a specificare la distanza da da se stessi quindi in questo caso sempre da di moccati abbiamo impostato 040608 km andando a selezionare uno si accede da qui nel play screen che in questo caso è un paint template troviamo il titolo informazioni piuttosto che il nome del posto e la descrizione è possibile aggiungere tramite l'action strip delle azioni qui in alto a destra come ad esempio in questo caso abbiamo implementato l'apertura di di google maps verso la destinazione che passiamo come latitudine e longitudine quindi al tap su questo bottone verrà semplicemente lanciato google maps con il percorso con il percorso verso il punto selezionato altri tipi di template sono ad esempio questo qui il cerca quindi ad esempio in questo momento ovviamente il device è fermo è possibile mostrare la tastiera lo recuperiamo qui siamo nella search screen in questo caso abbiamo un search template andiamo a settare sempre la direction back quindi per tornare indietro e poi sarà possibile fare delle ricerche ovviamente ripeto sono da di ah si stavo scrivendo con la tastiera del computer sarà possibile effettuare delle delle ricerche filtrare i risultati in base a quello che si scrive eccetera da qui sarà sempre possibile accedere alla schermata di dettaglio o tornare indietro e infine un'altra tipologia di template è questo qui diciamo utilizzato per gli alert lo troviamo qui per questo alert screen che è un message template dove andiamo a definire il titolo il contenuto e le eventuali cta in questo caso una sola potrebbero essere anche due quindi questa è un po' la demo per finire per per quanto riguarda diciamo la pubblicazione sugli store diciamo si andrà a buildare sempre un APK o un bundle in base alle preferenze e diciamo una volta sottomesso il pacchetto sullo store sarà necessario andare ad accettare sulla Google Play console i termini e condizioni della parte specifica di Android Auto ovviamente questo è documentato lo trovate sulla documentazione Google diciamo poi per la parte di pubblicazione il processo è praticamente uguale c'è un processo di di controllo dell'app più stringente rispetto alle app normali questo appunto sempre rientrando nel tema della della sicurezza che si vuole garantire per chi sta guidando l'automobile se avete domande prego ok eccoci qua perfetto andiamo nella sezione domande vuoi andare direttamente tu è proprio nella colonna ok perfetto magari partiamo da Enrico aspetta perché c'è un chiudo qua la condivisione ok se vuoi leggere l'alta voce anche se anche ecco Dario è tornato da Enrico dicevi Enrico sì partiamo dalla problema dell'automotive è la comunicazione tra l'ambiente Android con l'ambiente JavaScript o solo Java presente nelle macchine è corretto? non ho capito cosa cosa intendi con l'ambiente JavaScript cioè se parli di automotive come dicevo prima è un sistema operativo vero e proprio quindi come l'Android che trovi sul tuo telefono Android Automotive è il sistema operativo che è in esecuzione sul device Android installato a bordo delle automobili il problema dello sviluppo dell'app su questo ambiente è legato sempre ai temi di sicurezza perché come dicevo essendo un sistema operativo a tutti gli effetti avendo praticamente accesso a tutte le feature dell'app è possibile fare parecchi danni ecco cioè nel senso un'interazione sbagliata con con le altre verificatiche dell'auto può causare problemi di sicurezza per chi è a bordo dell'auto stessa quindi nel caso Android Automotive l'implementazione diciamo è ancora più stringente rispetto Android Auto proprio per motivi di sicurezza allora scusami Enrico fa una precisazione in chat nelle macchine c'è javascript che gestisce i sensori riteneva quello che ci sia javascript di preciso non lo so sinceramente ok va bene passiamo passiamo a Lino che fa una domanda tecnica filosofica sono due parti vuoi leggerla tu sì domanda tecnica filosofica è possibile secondo voi che con lo sviluppo spinto utilizzando protocolli API molto ben fatti di Amazon e Google in alto ci si omologhi ci si omologhi nel tempo alle logiche dettate dai due sistemi uccidendo ogni iniziativa su quelle che sono le vere caratteristiche di AI date da modelli di training creati ad hoc per specifica necessità intendo TensorFlow con CV confinati al solo fronte della ricerca grazie per avervi compito è una bella domanda eh sì è una bella domanda però forse anche come dire la filosofia di quello che c'è dietro è un po' diversa no perché TensorFlow come OpenCV nascono un po' come diciamo strumenti di processing e management di immagini e diciamo cercano di incapsulare poi modelli di machine learning e mentre probabilmente quello che fa Google con la AI magari il rispettivo di OpenCV potrebbe essere Cloud Vision è astrarsi quindi fornire delle API ma probabilmente dico probabilmente non ne sono certo sotto utilizzano comunque i modelli generati da librerie competenze come è una domanda molto spinta però va bene Dario grazie però di avere risposta allora intanto aspettiamo domande te ne faccio ve ne faccio una io quindi le documentazioni sono accessibili a tutti oppure sono libere? sì per la parte Android Auto e CarPlay sì ok sono disponibili i rispettivi sono restrittive quindi mi chiedo in quanto tempo magari un progetto che avete fatto di recente di data quanto tempo ci vuole per studiare la documentazione e la creazione proprio di queste app in quanti siete soprattutto a farlo cioè il vostro team come è composto? allora sì allora un esempio pratico a inizio anno l'abbiamo portato avanti l'abbiamo rilasciato in produzione nel giro di sei mesi più o meno Dario sì parliamo di un'app Android Auto sempre di categoria poi quindi punti di interesse non posso dire di più mi spiace la categoria mobilità elettrica dai diciamolo così ok dai detto più di me quindi più o meno sei mesi dal dal concept iniziale della proposizione al cliente quindi per capire effettivamente cosa si poteva fare perché diciamo già un anno fa eravamo abbastanza all'inizio su questo fronte quindi anche la tecnologia era ancora abbastanza cerba cioè ripeto ad oggi sulla documentazione ufficiale Google se provi a seguirla tutta di pari passo appena vai installare l'app sull'auto non ti trovi l'auto perché manca quel pezzetto lì ecco ma perché è una cosa che a volte succede sulla documentazione Android bisogna sbloccare il livello come se no non c'è divertimento quindi più o meno sei mesi e ci abbiamo lavorato in due persone più o meno diciamo che questo tipo di di progetti sono molto sperimentali quindi anche il cliente si pone in maniera come dire molto soft aperto la prima la prima fase sicuramente è di studio capiamo cosa si può fare come si può fare in questo caso quello che abbiamo riscontrato è diciamo il gran numero di vincoli che venivano messi anche dal punto di vista di user experience grafica perché fondamentalmente siamo partiti con facciamo proviamo a fare questo questo quest'altro l'ho disegnata tutta una user journey magari bellissima e poi dopo non si poteva fare però limite del sistema abbiamo come dire appreso e portato a casa questa queste informazioni a proposito sempre di quel pezzo mancante la domanda viene spostata a Ciro ma quindi voi come avete fatto a trovare questo pezzo noi abbiamo fatto nel senso che grazie a qualcuno che probabilmente ci è impazzito prima di noi anche cercando in giro su altre app Android Auto già realizzate abbiamo trovato che il delta che ci mancava era proprio quelle tre righe e quindi abbiamo sbloccato il problema allora per noi un altro vincolo che diciamo un piccolo suggerimento quello che abbiamo notato più che altro sulla parte esempio di CarPlay è che per poter realizzare quindi per avere i certificati abilitare l'app a CarPlay va fatta una richiesta esplicita ad Apple quindi c'è un form di sottomissione va richiesto e valuteranno loro se l'app che tu stai descrivendo è nella categoria giusta e se è necessario e corretto che abbia un'estensione per CarPlay quindi non è detto che realizzarla poi in qualche modo ti venga fatta mettere sullo store quindi va fatto anche questo check che è molto importante insomma quindi se capita che viene bloccata dovete rivedere quindi partirei prima da quello prima di iniziare i sviluppi infatti e poi Dario ripetere quindi i linguaggi di programmazione che comunque servono per poter sviluppare queste app così facciamo un po' un recap finale prima della chiusura di questo webinar cioè ti avevi fatto vedere Node? Allora per la parte diciamo di Smart Assistant fondamentalmente serve studiare bene la documentazione lavorare sulle console che sono dedicate e avere conoscenza di Node JavaScript e Python poi a seconda un po' delle soluzioni che si vogliono adottare per le Smart TV abbiamo visto come competenze principalmente su Android TV e Apple TV abbiamo visto competenze native quindi per chi è già uno sviluppatore mobile viene abbastanza naturale come lavorare su altre estensioni di sistemi aperitivi e per quanto riguarda le altre diciamo piattaforme sono per le Smart TV sono principalmente basate su web quindi HTML5 CSS3 e JavaScript e per quanto riguarda invece l'ultima cosa Android Auto e CarPlay anche qui sono un po' un'estensione delle app mobile quindi il linguaggio è quello utilizzato per le app mobile quindi codine per Android piuttosto che Swift e nella nostra esperienza abbiamo anche realizzato app in Flutter con l'estensione per Android Auto e CarPlay che poi va fatta in nativo quindi anche questo tipo di comunicazione è stata una delle sfide che abbiamo affrontato però si può fare possiamo dire che si può fare adesso allora l'ultima domanda di Claudio ci sono gruppi di sviluppatori in rete che scambiano le loro esperienze in questo settore cioè ci sono un po' di gruppi che parlano di questo argomento oppure si di gruppi diciamo se ne trovano poi ovviamente ci sono immagini di Stack Overflow e vari diciamo form piuttosto che i backtracker di Google stesso che comunque ce ne trovi in documentazione comunque ok per il riguardo per supporto diciamo ok perfetto va bene allora stiamo in chiusura di questo webinar ringrazio Dario Pinte e Giovanni Greco per questo intervento vi anticipo vi anticipo in chat anche il nostro canale YouTube dove da domani mattina troverete la registrazione di questo webinar e anche il PDF giusto che ci condividerete sì sì durante della presentazione quindi io ringrazio tutti voi ringrazio gli utenti che ci hanno seguito auguro buona serata se vi invito comunque a iscrivervi e registrarvi su rete informatica lavoro e andate su Enzi di Data per anche candidarvi insolvente alle ricerche attive va bene ottimo grazie mille buona serata ciao buona serata ciao Grazie.